Da sempre i carabinieri per la tutela della biodiversità del reparto di Moggiana sono vicini all'associazione ADMO nel raccontare soprattutto ai più giovani l'importanza che riveste la donazione per salvare la vita a pazienti che purtroppo non hanno altre speranze per guarire dalle loro patologie. Per fare comprendere meglio cosa significa donare il midollo d'osseo, si è partita da un esempio che troviamo in natura, cioè la tecnica dell'innesto delle piante che favorisce la propagazione della pianta e la sua crescita. Ne migliora l'aspetto estetico e produttivo, la rende più resistente alle malattie. Proprio come il trapianto di midollo che permette di curare molte malattie del midollo osseo, del sangue e del sistema immunitario, altrimenti incurabili. E sono stati i propri carabinieri del reparto di biodiversità a fare una dimostrazione pratica dell'innesto e di come usare l'argilla che ha funzioni curative e regenerative agli alunni dell'Istituto Murmora, scuola Polo ADMO dal 1994. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Tiziana Furlano, promotrice puntuale dell'assessibilizzazione e dell'importanza di alimentare la sporanza, offrire la linfa vitale, questa volta in duplice chiave, con l'accostamento della sostenibilità e legalità ambientale. Con lei e con i carabinieri, i volontari dell'ADMO guidati da Pina Davoli, ed alcuni alunni in qualità di ambasciatori del dono, che si sono occupati della formazione degli scolari delle classi prime in tema ADMO e donazione. A tutte le classi poi è stata donata una piantina che dovrà essere curata nel corso dell'anno e che contribuirà alla costruzione della giornata Aprile in Fiore, manifestazione prevista per la primavera del 2024. Il fine sarà quello di contribuire alla realizzazione di un bosco diffuso in tutta Italia, con geologalizzazione delle piante per la produzione di ossigeno.